Ma lo sai che lavorando troppo il suolo lo puoi rovinare? Se lo polverizzi troppo, si indurisce, perde la sostanza organica, si dilava via con la pioggia, è un disastro. Ecco invece una macchina che lo lavora con grande equilibrio, la vangatrice meccanica. Stiamo provando questo modello della Gramegna. La sua meccanica imita l'azione della vanga manuale, affetta la terra e la spinge all'indietro e lascia pezzetti di terra preziosi perché questi sono dei veri condomini per i microorganismi che hanno la possibilità di sopravvivere qui dentro grazie al fatto che la sostanza organica si decompone piano piano. Poi non crea suola di lavorazione, non si impasta con l'erba, lavora anche su terreni duri, insomma un sistema bellino bellino da provare, da provare.